Call Recorder, il dispositivo di Photofast che permette di registrare le telefonate con l'iPhone, si arricchisce di una nuova funzione, trasformare l'audio in testo. Un ottimo aiuto soprattutto per i professionisti che potranno così evitare di passare ore a sbobbinare conference call o interviste telefoniche. Grazie al dispositivo, le telefonate, oltre a essere registrate e archiviate per poter essere riascoltate, possono essere anche convertite in testi scritti, pronti per essere letti, analizzati, studiati o conservati. Quando Masako Wakamiya ha cominciato a lavorare usava l'abaco per i calcoli, ora programma app, e a 82 anni è diventata la più vecchia sviluppatrice per smartphone, nonché una maestra nel campo dell'accessibilità dei cellulari per gli anziani. Gli anziani difficilmente giocano con le app perché non ce ne sono di divertenti per loro. Ho spesso sentito la mentele, così ho pensato che avrei dovuto disegnare io un'app che li divertisse, racconta. Masako ha cominciato ad interessarsi ai computer nel 1990, quando è andata in pensione. Lo scontro è a colpi di microchip. In campo, sul rettangolo verde, scenderanno, si fa per dire, squadre di tutto il mondo per conquistare la medaglia d'oro al più grande campionato di robotica, e vincere così la RoboCup. L'Australia è a caccia della sua sesta medaglia d'oro. Abbiamo moltissima esperienza in quello che chiamiamo la robotica autonoma. Ciò significa far sì che i robot pensino ed agiscano in modo autonomo. Questo è ciò che ci ha permesso di fare veramente bene negli ultimi anni, spiega Timothy Wiley, supervisor del team australiano di RoboCup della Università di New South Wales.